Sì, prova. Dimmi una volta solo, te voglio bene e poi fammi morì. Va bene, maestro? Ah, prego, signorina. E come si dice, prima il dovere e poi il piacere, no? Ma, Salvatore, ma ti sembra proprio questo il momento di prendere una pausa? Ma non è possibile. Vieni qua. Assaggia. Caffè Gioia. È l'ingrediente doppio per un caffè italiano. Caffè Gioia. Un caffè overe. Grazie.